Me la immagino come un cantiere di sperimentazione che partendo dagli enti che fanno formazione e istruzione possa avviare l'isola verso un'economia che sia in sintonia con il futuro del nostro pianeta, un'economia sostenibile che implementa nuove professionalità e soprattutto ha un grande rispetto di quello che è il patrimonio, la tradizione, ma che si proietta definitivamente verso il futuro.